Il modello di governo che fino adesso ha dimostrato di essere completamente fallimentare deve finire. Io spero che anche tutti quanti gli altri candidati siano concordi rispetto al fatto che dobbiamo cominciare a chiamare i cittadini a partecipare. Noi come 5 Stelle ci impugniamo a fare quello che abbiamo già fatto in altre regioni d'Italia, cioè rendere qualsiasi cosa trasparente, abbattere qualsiasi costo della politica che non ha senso. A partire, ad esempio, siamo gli unici che rinunciano ai rimborsi elettorali. Abbiamo proposto una legge che si chiama Privileggi Zero dove chiediamo il taglio dei vitalizi. Cominciamo a fare una politica completamente differente da quella attuale perché altrimenti qualsiasi proposta non verrà mai attuata. Sappiamo già che sarà un fallimento. Va bene. Pietro Calabrese, del Movimento 5 Stelle per Barillari. La vostra priorità, il vostro primo impegno? Vorrei ricordare che una legge sull'acqua è già stata presentata dai comitati Acqua Bene Comune e sarà probabilmente una delle prime leggi che dovremo votare e a cui spero che tutti quanti diranno sì all'interno del Consiglio regionale. Quello è il modello che noi chiediamo partecipativo, modo tale che siano i cittadini a controllare direttamente la qualità del servizio offerto su tutti i territori, modo tale che non ci sia più il veleno come c'è l'arsenico nell'acqua dentro la nostra politica. Acqua pubblica.